ora ragazzi ciao e bentornati di nuovo siamo al decimo tutorial siamo vicini a natale e devo un pochino aumentare le situazioni allora sicuramente oggi inizierò anche il tutorial della basetta fluviale che avevamo detto farò un pezzo di fiume con dove mettere le zampe dentro ok quindi farò vedere un tipo di basetta scavata che è molto utile ma questo ne parleremo credo domani dopo domani oggi vorrei farvi vedere i colpi di luce su una miniatura che ho interrotto lasciato interrotta per troppo tempo è del momento di riprendere la vista che siamo sotto le feste e a volte trovo un po più di tempo praticamente è il big squig con il goblin sopra che è una miniatura fantastica ho due tutorial da fare su questa miniatura perché ne abbiamo già fatti due li trovate scusate il maniglione questo e questo mi fa capire quanto sto dando per questi tutorial sono stanco molto comunque insomma mi fa veramente piacere è veramente bello stare con voi e soprattutto a vedere dai commenti che voi state con me a seguire sono questa cosa vuol dire che insomma serve e che piace quindi perché no allora praticamente questo big squig lo abbiamo iniziato con due tutorial tutorial del contrast il primo tutorial che ho fatto per i contrast e tuttora del dry brush cioè le luci che avevo fatto al contrast adesso chiudiamo basetta goblin e squig sono tutte e tre li chiudiamo con i colpi di luce e domani o dopo domani vediamo di fare anche le bave così vi faccio vedere come si fanno le bave ovviamente sono anche lì in 200 modi ne troviamo uno che è abbastanza semplice ok ci vediamo dopo domani vediamo mi Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' il risultato di un inizio completamente a contrast e un avanzamento a dry brush. Quindi qui non ci sono colpi di luce attualmente ed era già venuta una miniatura bella da giocare, insomma giocabile. Però se mettiamo i colpi di luce chiaramente possiamo fare la differenza. Quindi a questo punto cosa facciamo? Allora mi sono preso un pennello da colpi di luce, quindi un artificial layer, è martora in poche parole, quindi ci tengo a fare le cose bene per questa miniatura. E mi sono preparato sulla wet palette due colori, un arancone e un rosso già più chiaro di quello che vediamo qui. Così posso mescolare la parte intermedia e poi dare i colpi di arancione sulla miniatura. Allora, quello che dobbiamo fare per i colpi di luce, ovvero i highlights, è in poche parole anacquare o meglio diluire molto il colore in modo tale che, almeno mi preparo nella wet palette, sto usando questi due colori, che sono due scale color, l'aldebaran e il mars orange, che adesso tra le altre metto a posto, scusate se passo davanti con il braccio, e niente, perché praticamente quello che mi interessa adesso è poter utilizzare l'acqua come diluente, in questo modo qua, mi preparo la mia acquetta, prendo il rosso, lo aggiungo all'arancione e vado a trovare un via intermedia che mi permetta di provare a fare i primi colpi di luce senza andare troppo oltre quello che c'è alla base, ok? Allora adesso mi prendo il mio colore solo sulla punta e levo via la wet palette e comincio a dare piccoli colpi ai, il cliente ha delle specie di pustole, no? Sono come dei brufoli, che vado a schiarire. Ecco qua, praticamente quello che mi interessa ora è soprattutto, visto che la miniatura che non riprende in mano da parecchio tempo, testare che cosa, che tipo di colori ho utilizzato quella volta, che forse non mi ricordavo nemmeno, e dare dei piccoli colpi di luce a tutte le pustoline che vediamo sopra in giro, a cui poi probabilmente se vogliamo possiamo mettere anche un po' di wash per poter rimarcare, diciamo, i confini, no? Però, insomma, basta stare un po' attenti. Infatti sto zitto, perché altrimenti sbaglio. Allora, la bocca, vedete che la bocca ha delle gengive con delle guance, per esempio qui le guance, possiamo andare a colpirli. Allora, gli highlight sono questo. È praticamente un colpo di luce che andiamo a dare con l'acqua che diluisce parecchio il colore e lo tira, in modo tale che io abbia praticamente quasi un wash al contrario, ok? E vado praticamente a spingere, questa volta con la punta potete anche spingere, vado a spingere il colore chiaro dove voglio io. Quindi lo rimetto sulla punta, vedete, e poi resto qui e lo lascio con la goccia. Questo cosa fa? Quando andrà a asciugare, non sarà così prepotente come sembra ora, andrà a asciugare e darà una sfumatura praticamente al rosso di prima. Guardate, lo faccio qua sopra, tutti i punti di luce che vedete, quindi gli spigoli, in poche parole, li andate a marcare con l'arancione, in questo caso perché giustamente è il colore che va a schiarire rosso, no? E una cosa importante, appunto, è che per schiarire rosso meglio evitare il bianco, perché va verso il rosa e salvo che non vi serva il rosa, per schiarire rosso la cosa migliore è l'arancione. Ecco qui, ecco qui. Quando vai a lasciare asciugare la miniatura, non trovi questi punti di luce così forti, si vanno praticamente a sbiadire perché è molto diluito. Ecco qua, qui, poi qui abbiamo fatto, qui sopra la gengiva e questo è un lavoro di grande pazienza, però è anche un lavoro di grande soddisfazione perché quando lo vedete alla fine si vede la differenza, quando lo fate dappertutto la differenza c'è. Allora, quello che ci interessa ora è far risaltare tutti gli spigoli e i punti luce, vedete? Qua sulla fronte. Quando poi andrà ad asciugare sarà leggermente ancora acquoso, qui per esempio voglio lasciare quella insegnatura e quindi lo lascio, lo levo proprio come se fosse un wash, perché effettivamente è molto liquido. Vedete che lascia addirittura, è come quasi una velatura che fate di colore che vi permette di avere una sensazione di sfumatura verso il colore più chiaro. Ora io vado avanti a fare tutti i colpi di luce in tutti i punti che vedo e ci vediamo praticamente tra un po' dopo l'immagine accelerata, diciamo, perché vado avanti appunto a fare questi colpi di luce e vediamo che salta fuori. Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? A tra poco. Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Vedete, quasi già asciugato, si vede la sfumatura ma non è esageratissima, no? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, allora questo è quanto, diciamo che adesso ho tirato fuori i colpi di luce del rosso, ok? Quindi se andate a vedere la miniatura, vediamo se si può far vedere un po' meglio, anche se spuoca un po', eccola qui, vedete che ha proprio dei colpi di aranzone che a volte diventano quasi giallo. Però vedete che sfumatura fa? Non dico che sembra aerografo, ma quasi quasi no? E quindi praticamente il trucco di questa tecnica è continuare a diluire il colore con l'acqua in modo tale che la miniatura abbia delle sfumature continue su tutto il corpo, a questo punto, su tutte le zone dove volete farle. E dopo un po', siccome è molto anacquato il colore, il colore andrà un pochino a sbiadirsi sulla zona dove stessa dove l'avete messo e quindi va ad amalgamarsi in trasparenza con quello che c'è sotto. Continuate a stratificare aggiungendo il colore più chiaro a quello più scuro, sempre più chiaro verso le punte di spigoli e sempre meno verso l'interno e le trasparenze faranno il loro lavoro. Cioè, se voi sommate per tre volte in trasparenza il giallo, ovviamente il giallo si veda di più. Quindi voi sfumate prima dal rosso all'arancione mischiandoli 50-50, poi mettete se volete essere pignoli un 80-20, poi mettete solo arancione e poi andate avanti col giallo 50-50, 80-20 e di nuovo giallo e avete volendo addirittura otto sfumature da poter fare. Quindi abbiamo fatte due o tre non di più e guardate già la miniatura che rotondità prende. E già così diciamo che è una bella miniatura da tenere sul tavolo o anche in mostra. Adesso io vado avanti a fare la stessa cosa con la lingua, quindi ci vediamo fra un attimo quando mi sono preparati i colori per fare la stessa cosa con la lingua. Per la lingua voglio usare uno scale color fucsia e basta, fucsia, e quindi vediamo un pochino che cosa succede. Quindi acqua ovviamente e fucsia insieme. Andiamo a prenderci praticamente dell'acqua tinta di fucsia perché alla fine viene quello, è talmente acquoso che sembra acqua sporca del colore, ok? Quindi quella è l'idea che deve darvi il colpo di luce in questo caso, ok? È una sorta di blending, cioè il glaze o il blending, sono praticamente, scusatemi, no, il blending no, perché sì, si può fare blending ma il blending è mescolare i colori al liquido. Il glaze in questo caso, cioè una velatura che voi fate, che in realtà in questo caso fate solo verso i colori più chiari, quindi si può definire un highlight. Eccolo qui, allora, accelero e ci vediamo fra un attimo. Ragazzi, un attimo di pausa perché aggiungo del bianco al fucsia e vediamo cosa succede. Quindi riaccelero l'immagine e voi vedrete praticamente che ho aggiunto leggermente un po' di bianco al fucsia per sparare proprio delle striature sulla lingua molto molto chiare, ok? Ci vediamo fra un attimo. Eccoci qua ragazzi! Allora, abbiamo fatto anche le luci alla lingua che a questo punto dopo andremo un pochino a rifare, ritoccare con degli inchiostri magari. Per esempio qui con l'inchiostro rosso si potrebbe tentare di rifare qualche ombra per saturare praticamente le ombre dello squig. Però bisogna fare attenzione perché il rosso in questo caso è un inchiostro intensissimo che fa un pochino il lavoro del blending, della velatura che fate voi con l'acqua. Però insomma, ecco adesso mi è caduto, quindi diamo un secondo al povero Payne che si è perso. Ovviamente è ancora chiuso, quindi tranquilli, non ho versato nulla. Eccolo qui! E vediamo un pochino se riusciamo ad aprirlo, perché ho lo stuzzicadente che ormai comincia a battere la fiacca e dovrei cambiarlo, ma non mi ricordo se ne ho altri nel cassetto, quindi andrò a vedere. Allora, l'inchiostro. Andiamo a staccare questo. Eccolo qua. Dunque, l'inchiostro è un colore molto liquido, ok? Ma è fortemente pigmentante. E' fatto apposta per aumentare le saturazioni del colore. Io lo vado a anacquare ulteriormente, così da fare una sorta di wash rossa. e lo vado a mettere in certi punti, tipo gli interni, per non rischiare di fare troppo. Ecco qua. Allora, quando poi siete qui, se andate a mettere il rosso sopra un wash, così, il rosso dopo farà la stessa cosa che abbiamo fatto noi ora con le velature. Va a velarsi e si leva abbastanza. Potete anche allungarlo col pennello stesso, con l'acqua. Il rosso andrà a depositarsi e mi farà le guance più rosse, saturandole. Ne prendo un pochino e ne metto un pochino qui. Così ho accentuato le ombre di certe zone, senza però usare il wash marrone. Vedete? E a questo punto vado a farlo in tutti i punti dove mi interessa avere questa sensazione. al pomeriggio. E a questo punto vado a farlo, che ce, mi fanno a volte anche su parte. Non riesce un pochino qui. Più la gioca. ecco qua ragazzi allora regola importante con gli inchiostri è che se vi ritrovate ad avere troppo colore che non volevate aggiungete acqua e cominciato a diluire l'inchiostro è sicuramente ancora abbastanza liquido per poterlo lavorare e vi permette di fare questa cosa allora perché ho usato l'inchiostro perché non è una wash quella che ho fatto è sempre un highlight al contrario quindi ho fatto in modo che la miniatura avesse dei punti vediamo se me la mette a fuoco non è facile con forse se aumenta la luce è più facile ecco qui eccolo qua allora vedete che la miniatura adesso ha praticamente dei punti che sono tornati a essere molto rosso intenso la lingua ha po più di luci e come vedete adesso si sta ancora asciugando ma ha delle sfumature più omogenee praticamente non ha colpi troppo forti e né troppo contrasto né troppi colpi di luce e quando la vedete ora in telecamera tra le altre si vede anche il giusto ma quando la vedete dal vivo effettivamente fa il suo bell'effetto perché sembra quasi aerografo ora andiamo avanti a fare la stessa cosa con direi appena 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 forse la pelle del goblin potremmo schiarire leggermente in qualche punto il goblin dopodiché chiudiamo la basetta e più o meno ci siamo l'ultima cosa che ci manca e fare i colpi diciamo alle zanne quindi goblin facciamo zanne e poi chiudiamo la basetta tra poco allora ragazzi stessa cosa che ho fatto con il rosso e l'arancione lo faccio con questi due colori che non so se si vedono da fuoco che sono praticamente sempre skill color il fall il fall green e lo sherwood green primo uso lo sherwood e vedo un attimino che differenze mi fa di luce sulla pelle dopodiché lo schiarisco 50 e 50 con l'altro più chiaro e poi do dei colpi magari più chiari questo perché voglio vedere prima il goblin che che tipo di pelle a rispetto a quella che vorrei fare io perché già però in mente il primo è abbastanza chiaro quindi cosa faccio qui ho un vantaggio che ho le nocche le dita dove posso tranquillamente aggiungere verde eccolo qui e facciamo una prima mano tra le altre il goblin deve venire fuori un pochino dalla miniatura del resto della miniatura quindi è importante ecco qui è importante che non sembri dry brushato perché il dry brush come vi dicevo ieri satura molto e quindi va a finire che crea questa complicanza adesso io mi ritengo questo un attimo sotto così perché vado più comodo questo è il comodo degli holder vedete se l'order è fatto bene è comodo da usare allora qui ci sono gli occhi con le sopracciglia la testa io sto velando e quindi tra un pochino questo colore che voi vedete sembrerà un po più scuro perché andrà a velare la testa del goblin però va benissimo perché come vedete mi sta facendo proprio un colore simile e me lo sta mischiando a quello che c'è sotto che ormai sta facendo da base praticamente sta funzionando quindi sempre molto anacquato andiamo avanti stando attenti che se troppo anacquato mi va nei recessi non deve andare nei recessi deve andare solo sull'esterno oppure quando lo spingete voi tipo ora all'interno del polso e del carpo mi va bene che vada nei recessi però devo stare attento a questa cosa qua cioè devo controllarla io ecco qua adesso sotto l'ultimo punto sul pollice qui ecco le dita sì sì questo tra l'altro è molto soddisfacente questo colore di la verità proprio bello ecco per esempio io qua già così mi fermerei ultimo colpo lì sotto perfetto qua siamo a posto qui la punta perfetto e qui ci possiamo fermare allora il metallo lo lascio assolutamente così perché mi piace dry brushato mi dà proprio l'idea di metallo vero al massimo posso accentuare con null oil qualche punto e questo si potrebbe effettivamente fare per dargli ancora più ombra ma ci siamo è più o meno direi che questa cosa ora possiamo farla con l'osso diciamo il le unghie quindi per le unghie usiamo il white sand white sand è una sabbia bianca è una sorta di bianco della scale che si avvicina moltissimo ora non so in questo caso non saprei dirvi il nome del colore della citadel bisogna andiamo a cercarlo su internet e poi eventualmente comprarlo dal vostro negoziante di fiducia ma praticamente è una sorta di bianco panna ok è veramente sparato è rispetto alle ossa che abbiamo qui che sono dry brushate con il marrone di sfondo quindi anche qui grand acqua che tra le altre nella mia caso è anche un po sporca però ci sta sta facendo lo stesso il suo mestiere eccolo qua annacchiamo bene il colore per non rischiare che al mal che vada leviamo e cominciamo a fare le punte così potete fare dei piccoli triangolini che vi fanno sembrare vedete il colore sfumato ovviamente quello che state vedendo qui come sempre siccome è molto liquido non si vedrà così dopo quindi non abbiate paura insomma all'inizio se vedete un bianco sparato perché dopo appunto si va lo rimetto sull'holder nel frattempo si va vedete a va a sfumare quindi non non vi spaventate se vedete dei bianchi fortissimi all'inizio comunque panf triangolini piccoli vedete e vi fa questo effetto quindi la curvatura andate per sempre verso la punta in modo tale che sulla punta si accumuli la goccia d'acqua sporca di bianco e ora adesso ci giriamo la miniatura così e andiamo a fare l'altro pezzo e vedete che di colpo tra le altre il dry brush stesso vi guida un pochino a fare i colpi di luce nei punti giusti e viene fuori vedete una bocca molto più aperta molto più coi denti un po a zanna un po più bianchi no nel frattempo se guardate il colore rosso arancione si è veramente sfumato tanto quindi alla fin fine questa miniatura sta venendo proprio bene adesso guardavo gli occhi del goblin e gli do un colpo di arancione proprio sulla punta dell'occhio per farlo un po matto con la luce vediamo un po se mi riesce non è male lo facciamo anche di qua sempre lancione sempre sul rosso fa un po liride no siamo a livelli microscopici ma ce l'abbiamo fatta quindi il goblin adesso ha un pochino gli occhi un po più a matto con un minimo di sfumatura ci mancano le zanne in alto andiamo a prendere il nostro bianco molto anacquato e facciamo le zanne sulle punte e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo un recap e poi via subito con la show in. Due cose importanti ragazzi prima di chiudere completamente la puntata. Ascoltate se ho spostato la telecamera ma andato ora vengo qui davanti vi faccio vedere. Allora praticamente ho dato due ultimi ritocchi all'armatura. Dandogli praticamente più sfumature possibili grazie al null oil quindi ho praticamente ritoccato i chiodi dell'armatura e l'inseratura dell'armatura ancora bagnato se vedete. E poi sto facendo la basetta e quindi ora andrò avanti con dei pigmenti più scuri dopodiché attaccherò i soliti tafte ma di basette non occorre più che ve ne parli. Insomma finisco di dipingere anche la base e finalmente ci siamo. Quindi tra un pochino insomma avrò finito e per voi sarà un attimo perché passerò dall'immagine all'altra e ci vediamo più in recap. Allora ragazzi io vi lascio oggi a una parziale show reel della miniatura che comunque a livello pittorico è finita e conclusa ma domani ci studieremo le bave per finirla definitivamente dandogli dei tocchi speciali insomma. Quindi vedrete oggi nella show reel ancora per esempio le foglie che ho attaccato con la colla dei taft che ormai conoscete bene dai tutorial delle basette. Li ho effettivamente attaccate ora quindi ancora si deve seccare un po' vedrete ancora qualcosina di bagnato però fate conto che insomma è una miniatura finita un secondo fa e quindi sta ancora asciugando. Ve la lascio per 20 secondi e ci vediamo domani per le bave dello squigone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.